Spiderman 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 Tu sei filmo radio Spiderman Che forse sei tu Spiderman Tu laschi i tuoi fili Spiderman E vai dove vuoi C'è paure città Spiderman Daddy Sellar You'refan sitten grey Ma tu sai chi è questo misterio? Non lo so, dicono che era un tecnico degli effetti speciali di Hollywood, finché un incidente non l'ha trasformato in misterio. È proprio vero, l'uomo ragno verrà qui questa sera, allora potrò vederlo. Sì mia cara, stasera potrai vederlo, più di quanto tu abbia mai sognato. È tutto a posto, tra pochi minuti arriverà il mio celebre ospite speciale e scatterà la mia trappola. Non so perché, ma ho l'impressione di essere sul punto di cadere in una trappola, una trappola per ragno. Ma la tv ha già annunciato la mia partecipazione all'ora musicale di misterio e perciò... Tutto sembra normale, ma i miei sensi di ragno vibrano come impazziti. Se il misterio ha in mente qualcosa, forse riuscirò a scoprirlo durante il suo spettacolo. Oh, è proprio l'uomo ragno! Ah, il nostro ospite è arrivato. In onore del nostro amico ragno, ho preparato una musica speciale. Ora vi aggiungerò un mio tocco personale. Grazie al mio potere ipnotico, presto comanderò un esercito di fedeli seguaci. Ritieniti onorato, insetto. Tu sarai il primo a farne parte. Ascoltatevi! Sono misterio! Sono il vostro capo! Voi mi ubbidirete! L'uomo ragno è nostro nemico! Dovete distruggere i nostri nemici! Dovete distruggere l'uomo ragno! Devo trovare un sistema per salvarmi la pelle senza far male a nessuno. C'è un solo modo per uscirne. Lassù! Devo fermare subito misterio prima che diventi troppo potente. Con la mia forza di ragno aprirò facilmente questa porta. Che cosa c'è uomo ragno? Hai perso la tua forza? Quella porta è una mia speciale invenzione. Non fa entrare gli ospiti indesiderati! Oh no! E inseguitelo! Anche questa volta ti è andata bene, uomo ragno! Ma non mi sfuggirai! Io sono misterio! Io sono vostro amico! Dovete obbedire ai miei comandi! L'uomo ragno è vostro nemico! Trovatelo! Distruggetelo! Eccolo! È da quella parte! Prendiamolo! Certe volte non è molto piacevole essere un supereroe. Prendiamolo! Dobbiamo distruggerlo! Forse è meglio che l'uomo ragno ritorni ad essere per un po' Peter Parker. Così potrà studiare la sua parte per la recita scolastica. No, no! Così non va! Eh? È poco sentito! Devi essere molto più convincente! Ripeti ora! Vede quale preside dell'ESU? Ho una grande responsabilità! Quel che lei mi chiede di fare... No, no! Misterio non chiede! Misterio esige! Ah! Basta! Che terribile rumore! Oh! Naturalmente sono disposto a collaborare totalmente! Va bene, Peter! Adesso proveremo ancora una volta! Fate cessare questo rumore! Stiamo provando! E ora devo creare il mio invincibile esercito! Poi io, Misterio, sarò padrone del mondo! Misterio, questa è roba per l'uomo ragno! Ascoltatemi! Io sono il vostro capo! Io sono Misterio! Voi mi obbedirete! Noi obbediremo Misterio! Fortunatamente l'uomo ragno non può subire l'influenza del potere ipnotico di Misterio! E magari posso valermi di questo per tentare di... Ascoltate la mia voce! E obbedirete! Ascoltiamo e obbediamo! Ascoltiamo! In questa situazione è meglio agire come Peter Parker che come uomo ragno! Accompagnami dal tuo capo! Io sono Misterio! Sono il vostro capo! Voi mi seguirete e mi obbedirete! C'è sempre più gente che lo segue! Questo Misterio avrà tutta la città di New York al suo comando! Devo trovare un sistema per fermarlo prima che sia troppo tardi! Ma cosa sta succedendo? Non c'è ancora stato un delitto! Cosa scriverò sul giornale? Eh? Cos'è? Ho una parata! Maledetta finestra! Niente funziona qui! Inclusi i miei dipendenti! Quei fannulloni! Quella... Quella musica! Io devo... Io devo seguire! Devo obbedire! Io devo obbedire! Io devo obbedire! Ah, il palazzo del Daly Bugle! Chissà che cosa ne pensa il vecchio Jameson di questa faccenda! Non ha più tempo di scherzare ormai! Scommetto che Jameson sarà felice di essere salvato dall'uomo ragno! Chissà se tutte queste persone sono disposte a chiudere gli occhi mentre mi cambio nell'uomo ragno! Ah! Proprio quello che ci voleva! Io sono il vostro padrone! Voi mi seguirete dove vi condurrò! Io sono mistero! Qui i miei vestiti dovrebbero essere al sicuro! E ora metterò in atto il trucco che mi riesce meglio! Io devo seguire! Io devo obbedire! Sento una leggera prezza! Pare che anche Jameson sia sotto l'effetto della musica ipnotica di misterio! Devo mettere Jameson al sicuro! Ecco fatto! Come posso far uscire un quotidiano se non ho niente da pubblicare? Ma come mai fa così caldo? Si è incertata! Vorrei proprio sapere chi è stato d'incastrato! Beh, mi sembra che Jameson sia a posto! Ora devo fermare misterio e la sua pazza macchina musicale! Io sono il vostro padrone! Adesso dovete obbedirvi! Al mio comando prenderete i soldi custoditi della banca e me li consegnerete! Speravo proprio che tu fossi così insensato da cercare di fermarti, uomo ragno! Le ho abbastanza delle tue minacce, misterio! Non posso crederci! Non c'è nessuno! È tutto azionato da computer! Sciocco! Sei finito dritto nella mia trappola! E ti ho riservato un'altra piccola sorpresa! Una nuova musica che ho creato appositamente per te! No, no! Quella musica è... Io devo obbedire! Io ti obbedirò! E ora sarai punito per aver osato interferire nei miei piani! Io sono il vostro padrone! Voi mi obbedirete! Distruggete l'uomo ragno! Noi obbediremo! Dobbiamo obbedire! Noi lo distruggeremo! Dobbiamo obbedire!